Ben tornati a tutti Ben tornati Che giorno è? 29 E c'è un caldo boi Sto sudando Siamo a marci di sudore La scuola è finita la calda senza far sentire Bacca voi Non è che non vedete per te che c'è un lago di sudore Di sudore, di peini Di peini Scusate un attimo C'è diventato un rumore strano Il ventilatore al massimo Il ventilatore Apple C'è la bella che giro Il ventilatore Apple I vent Oggi Aspetta aspetta Allora Prima cosa Giorni fa c'è stato l'evento Apple giusto? Giusto Matteo? Si Il 7 giugno 7 giugno 7 giugno Bene L'aggiornamento dell'iPhone 4 Anzi 4.0 Doveva avvenire esattamente il 7 giugno Poi naturalmente No doveva avvenire il 7 giugno Si insomma il 7 giugno dell'aggiornamento ne parlavano anche dell'iPhone 4G no? Ecco doveva essi intorno a quel giorno Intorno a quelle ore Parla parla Ecco ma Si è saputo che il 4.0 Esce il 21 giugno Aiuto Allora noi eravamo così Ad aspettare il 21 giugno No giusto Chi ci fa fare di aspettare fino al 21? Per questo l'abbiamo fatto così Abbiamo l'iPhone Non abbiamo l'iPhone Abbiamo il firmware 4.0 dell'iPhone 3GS E l'abbiamo scaricato Vedete lo sfondo Vedete il doc Come l'iMac L'iMac Adesso vi spiegherò Vedete le cartelle Vedete le cartelle Vedete Fantastico Adesso vi spiegherà come ha fatto Perchè è stato lì che l'ha scoperto Tutto da solo Senza aiuto di nessuno Esatto Lui stava in casa a farsi Cripe No Cripe Si infatti L'ho tenuto male Che caro Beh andate sul link Adesso lo mettiamo nella descrizione Esatto Come sempre Come mai lo sanno Nel gopload Scaricate i file Devo scaricarlo Ma si te lo scarichiamo No eh ce l'ho già scaricato Vabbè esserpito qualche parte Ma si è scaricato E' questo Dove Apriete Ecco lo apriamo Eh vabbè Eh vabbè è rimasto in documento Ah La cartella Questo è fantastico Nella cartella troverete Quante cronche sono Quattro torrent Sì Vedete Bene In uno lo scaricherà anche iTunes 9.2 beta Che è quello che serve per installare il 4.0 Il cazzo ho fatto l'aperto Escos mi si apre Opera software Che cavolo c'entra Non ci dà neanche noi Opera software sotto inteso E' browser Bene Comunque vi Comunque vi Semplicemente così Voi scaricate dal torrent Che avete un torrent Bit torrent Quei cavolo che avete Per alt Si Dove scrive ripristina Premette alt Più ripristina Contemporaneamente Vi si aprirà una cartella Dove selezionare Allora aspetta Per 4.0 Perchè non la fai cosi Eh Non sei un social leader Eh Cosa fai No no guarda Scrivi quello che devo fare qua Ah te lo metti alt No allora No eh Devi scriverlo Non premerlo Eh Vedi Cioè noi facciamo Bella Facciamo quelle cose Di sapienti di computer Poi non so neanche come si Dopo l'entra di scuola In più Lalalalal Più ripristina Ma guarda che se non si fa se questo mondo Lo scriviamo tutti quando Seremo un mondo migliore Ah il più ripristina C'è solo quello C'è solo quello Sì Ah c'è praticamente c'è Tutta questa forza per scrivere questo Sì E poi Poi si apre la cartella Selezionate i file 4.0 Ve lo cazzo e lo installa Eh Consiglio come stessa lui Scrivetevi i numeri Della rubrica dell'iPhone Che avete salvato sul telefono Sulla sim E te Perché sto coglione Perché sto coglione a cancellare tutti quanti Quindi Come esperti Macintosh Macintosh Non ho fatto quello da ignorante pure io Aaaaaa Registrateli E noi ci vediamo La prossima Fluidblock Iscrivetevi Perché registrateli Ma Ti registrate su Youtube C'è un sole che batte sulle 5.51 Sto morendo Bene La prossima Fluidblock Sarà il giorno 30 Sarà un miracolo Adesso è arrivata il 30 Posa parli nel prossimo fluido Di Safari 5 Cazzo lo sapereci di Ciao Ciao Questo pare Ciao 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 Grazie.